Partiamo dalla riete. Ottime occasioni professionali anche dal punto di vista della carica di energia giusta che troverete per i vostri progetti. Anche l'Eros dà la vostra. Toro, anche oggi avete la giusta energia e sensualità e questo significa sia per i single che per gli innamorati che non c'è tempo da perdere per nuove storie o avventure e soprattutto per chi è in coppia a consolidare il proprio rapporto. Gemelli, siete forti economicamente in questi giorni ma avete anche ottimi rapporti in amore se siete in coppia, non vi mancano occasioni e nuove relazioni se siete single e molte persone si faranno avanti anche quelle più inaspettate. Cancro, successo professionale e sorrisi da elargire a go go. Gli amici vi apprezzeranno e sarà una serata divertente quella che passerete oggi. Attenzione per chi è in coppia e le incomprensioni con il partner. Leone, affari e nuovi clienti caratterizzano il lato professionale della vostra vita in questa giornata. Continua anche la contingenza astrale che caratterizza la vostra settimana. Approfittate del momento propizio per investire. Vergine, l'amore per voi oggi è erotismo, fascino. Sarete la donna o l'uomo migliore nel panorama che le persone avranno di fronte. Sarete però anche spietati ed esplosivi se vi capiterà l'occasione. Bilancia, avete un atteggiamento negativo in questi giorni perché l'influsso delle stelle non è propriamente propizio. Avete comunque un'ottima salute, tenetela stretta. Male in coppia, concedetevi del tempo per riflettere. Scorpione, emozioni ancora speciali per voi. Avete i pianeti generosi che vi donano positività e piacevolezza, oltre che un desiderio risvegliato da appagare. Qualcuno di voi è anche alla ricerca dell'altra metà. Sagittario, si prevedono viaggi e occasioni di nuove amicizie con prove da superare. Gli astri però vi offriranno momenti magici e finalmente potrete pensare di capitolare anche nei confronti di una persona che da tempo vi sta a cuore. Capricorno, amici da tenere sotto controllo e nuovi incontri professionali che se da un lato vi offriranno novità, dall'altro vi toglieranno al privato che invece ha tanta voglia di spiccare il volo o tra le lenzuola o per un weekend. Acquario, successo nel lavoro, offerte professionali e altre novità. Siete in un momento piacevoli da diversi punti di vista e vivete le occasioni con maggior leggerezza e intraprendenza. Pesci, avrete ore fastidiose con osservazioni che non vi faranno piacere. È il giorno classico da tirare avanti senza vedere né ascoltare. Avete però buone emozioni interiori, non lasciatevele sporcare dagli altri.